Allora ragazzi buona serata, ben ritrovati, sono felice di avervi qua e voglio subito cercare di analizzare insieme a voi quella che è stata la prestazione della Juventus questa sera contro l'Empoli, quella che è la classifica di Serie A che vediamo ad oggi e anche un po' quelle che sono le prospettive future. Intanto la Juventus e comunque tutte le altre squadre di Serie A in questo momento saluteranno perché ci sarà questa pausa per le nazionali, la Juve giocherà la prossima partita contro la Lazio ma lo farà sabato 16 settembre quindi ci sarà da attendere ancora un po' prima di rivedere la Juventus. La Juve che questa sera vince per 2 gol a 0 e si porta al terzo posto in classifica a quota 7 punti, Anplein per l'Inter che ha vinto nel pomeriggio 4 a 0 contro la Fiorentina e per il Milan che invece ha giocato e sconfitto la Roma nella serata di venerdì se ben ricordo. La Juve dicevamo al terzo posto 7 punti insieme a Lecce e dietro di noi ci sono l'Atalanta, il Napoli, la Sverona 6 e poi tutte le altre squadre che vanno giù dai 4 punti ai 3 e bla bla bla. Questo cosa significa? Che è una classifica provvisoria, certo guardarla oggi ci dà belle soddisfazioni, ci dà delle belle vibrazioni però non è una roba definitiva e anzi dobbiamo tenerla monitorata perché può cambiare assolutamente da un momento all'altro. Però sicuramente è una bella botta di positività guardare la classifica però devo dirvi la verità io credo che la Juve oggi non abbia offerto una grande prestazione. Vi dico subito da quando mi è piaciuta la Juve. La Juventus è iniziata a piacermi da quando c'è stato il cambio in cui sono entrati Cambiaso e Milic. Io da quel momento lì ho visto una Juve più tranquilla, più serena, più alta, che andava a pressare, che voleva cercare anche di dominare la partita con il palleggio. Io da quel momento lì ho visto una Juve più consapevole, più sicura dei propri mezzi. Prima di quel momento lì invece ho visto una brutta partita, una brutta prestazione. Dobbiamo ricordarci e dobbiamo sottolinearlo che questa sera giocavamo contro una squadra che è l'unica ancora a zero punti in Serie A, è l'unica ancora con zero gol segnati in Serie A. Quindi stavamo parlando di una squadra che ha tutte le difficoltà del mondo. È una squadra molto giovane, ma la gioventù poco importa, perché abbiamo parlato prima del Lecce. Lecce è la squadra più giovane in Serie A, la Juve è una delle squadre più giovani in Serie A, eppure sono lì. Quota terzo e quarto posto, terzo posto condiviso. Quindi non significa niente, significa che probabilmente l'Empoli ha semplicemente più difficoltà. Io mi aspettavo anche una partita più tranquilla, invece una serie di episodi hanno portato a complicarci un pochettino la vita, e cioè il rigore sbagliato da Vlaovic, un paio di gol sbagliati, tra cui quello di Chiesa, un uno contro uno che poteva finire in tutt'altro modo. Ci sono state alcune cose proprio sotto porta che non mi sono piaciute. Però se andiamo semplicemente a guardare quelli che sono i numeri di questa partita, andiamo a vedere un attimino, la Juventus ha avuto un mucchio, perché la Juventus ha avuto veramente un mucchio di palle e gol. Se andiamo a vedere ci sono stati 18 tiri totali della Juventus, di cui 5 hanno un specchio della porta, quindi significa che la Juve, da questo punto di vista, le occasioni da gol le ha create. Infatti credo che la critica questa sera non vada rivolta sotto questo punto di vista, perché la Juve ha avuto diverse possibilità, lo dicevamo prima, il rigore è sbagliato, alcune occasioni che non sono entrate, due gol annullati, uno a Danilo, uno a Pugba, abbiamo avuto una traversa di Milica, abbiamo avuto un Paolo di Moise e Ken. La cosa che, secondo me, dobbiamo metterci in testa e sulla quale dobbiamo riflettere prima di tutto è capire come arrivano queste occasioni da gol, perché la Juve non ha tanto la difficoltà nel crearle contro squadre come questo Empoli, che onestamente è davvero la squadra che mi ha convinto di meno di quello che ho visto in Serie A fino ad adesso. Mi sono guardato un botto di partite di Serie A fino a questo momento in ottima vante calcio, dato che domani ho la prima asta, quindi contro delle squadre, così la Juventus le occasioni le crea, però anche il nostro gol nasce da una mischia in calcio d'angolo, il gol dell'1-0. Sono tutte situazioni pochettino create con casualità. Io non riesco a vedere una Juventus che ha la volontà di arrivare a sviluppare una propria trama. Io oggi mi sono recuperato la partita della Lastra contro il Napoli. Prima mi sono visto l'Inter con la Fiorentina, l'altra sera appunto mi sono visto il Milan. Non è solo un discorso di rose, è un discorso di approccio, di predisposizione, di lavoro. Stiamo parlando di tre squadre che hanno cambiato tanto, perché il Milan ha cambiato tanto, perché il Napoli ha cambiato tanto, perché la Lazio ha perso tanto e ha sostituito, si è fatta una rosa di un certo tipo, poi in questo momento la Lazio è indietro in classifica d'accordo, però andare al Maradona e vincere non è mai una roba facile. Insomma, tutte squadre che hanno cambiato eppure si vede già qualcosa. Io nella Juve stasera non ho visto quel qualcosa, anzi mi è sembrato rivedere una squadra che poteva trascinarsi la partita verso il Classico, va a finire che ci fanno un gol di gatta dopo che abbiamo sbagliato diverse occasioni perché non siamo stati bravi a dare continuità. Io se penso alla partita di Udine, la prima partita di campionato, i primi 30-35 minuti, la fame, la grinta, la cattiveria, la corsa, il pressing che abbiamo messo in quella partita, e penso alla partita col Bologna, penso alla partita con l'Empoli, non vedo niente di quella squadra. Quella squadra che invece era andata a costruirsi quelle occasioni in una maniera precisa, seguendo un pattern, qualcosa di provato in allenamento. Io vedo anche banalmente il palo di Ken, è una palla lunga, è una palla lunga con Ken che taglia dietro il difensore, il gol di Chiesa, è una palla lunga a scavalcare la difesa dell'Empoli. Sono cose che certo sono efficaci, funzionano, però sono cose che banalmente sono fine a loro stesse, non c'è un'armonia, non c'è un collante. La Juventus anche questa sera ha toccato tantissimo la palla, l'abbiamo detto per tutta la pre-season, l'abbiamo detto all'interno della prima partita coludinese perché dal primo tempo al secondo tempo è cambiato quello, la volontà di portare tante volte il pallone piuttosto che giocarselo palla a terra. E poi se andiamo a vedere il possesso, nel primo tempo ragazzi la Juventus aveva giocato il 70% dei palloni all'interno della propria metà campo, aveva giocato 80 palloni, 90 palloni in avanti e oltre 110 all'indietro. Quindi proprio un'idea di Juventus un po' meno arrembante rispetto a come dovrebbe essere con l'Empoli. Poi il risultato stasera te lo sei portato a casa, questo credo che negli ultimi 20 minuti non sia poi mai stato in discussione e anzi, ribadisco, se andiamo a prendere il numero delle occasioni da gol, il computo delle occasioni da gol, la vittoria della Juventus è meritatissima, meritatissima perché l'Empoli alla fine non ha mai impensierito Perin, non c'è mai stato un tiro in porta. L'unico vero pericolo creato è quel tiro di destro, di Mattia destro, che fa scendere la palla e poi calcia in maniera magnifica, ma anche qua senza beccare lo specchio della porta. Quindi credo che bene o male la vittoria della Juve non sia mai stata in dubbio con la Juve che comunque ha prodotto un grande numero di occasioni da gol. Però questo basta per riuscire a tornare a casa dal Castellani di turno, battendo l'Empoli di turno, che è una squadra molto in difficoltà dal punto di vista tecnico e dal punto di vista tattico. Io non sono sereno, quando si diceva sì era solo l'Udinese, però con l'Udinese quelle cose le avevamo fatte. Allora stasera era solo l'Empoli, però con l'Empoli non ci siamo messi allo stesso livello di approccio. La Juventus è superata la metà campo, non è in grado di gestire il pallone, sono sempre momenti differenti, a meno che non vada sugli esterni con Kostic, perché Kostic è l'unico giocatore che veramente l'anno scorso abbiamo sfruttato come se fosse uno schema, palla Kostic sulla linea e poi mette alla palla in mezzo. Quindi stasera ci portiamo a casa la vittoria. Benissimo, meritatissima. Secondo me la Juve stasera ha strameritato la vittoria. Però secondo me non si può ancora parlare di Juventus convincente, non si può rimanere rilassati e tranquilli, non si può guardare la classifica e dire ok va tutto bene perché siamo ancora molto indietro e abbiamo affrontato fino adesso tre squadre molto abbordabili per quello che è il livello della Juventus, perché Udinese, Empoli e Bologna sono squadre abbordabili. Già con la Lazio, che nonostante la classifica difficile reputa una squadra molto pericolosa e molto difficile da affrontare, ci sarà la possibilità di provarci la febbre, una sorta di termometro. Abbiamo due settimane per preparare al meglio questa partita, abbiamo due settimane per correggere pregi e difetti, abbiamo alcuni giocatori che andranno in nazionale, certo, ce li hanno tutti, però dato che giochiamo già una volta a settimana e dato che abbiamo addirittura due settimane a disposizione, mi piacerebbe veramente tanto vedere una Juventus convincente contro la Lazio, perché se non ricominciamo, se non ripartiamo dal voler migliorare quelli che sono i nostri difetti all'interno delle prestazioni, si rischia di farsi poi trascinare all'interno del vortice che ha portato la Juventus negli ultimi due anni a vincere determinate partite contro le squadre che facevano più fatica, come magari questo Empoli, per poi non riuscire mai all'interno degli scontri diretti a dare quel qualcosa in più che serve per portarsi a casa certe partite. Quindi tre punti, meraviglioso, fantastico, classifica, ok, per quelle che erano le sensazioni dopo il pareggio con il Bologno in casa, benissimo, siamo al terzo posto, siamo solo due punti dal Milan e l'Inter che sono secondo me superiori per tante cose, però non guardo il bicchiere mezzo pieno, mi viene a guardare il bicchiere mezzo vuoto, perché anche stasera non ho visto una Juventus pienamente convincente.